Sì e benvenuti in questo nuovo video di Aidei Ho fatto il livello 37 Stamattina l'ho fatto però non potevo portare video A quell'ora ho preferito fare forse una nerd gold Che fare Aidei Perché poi ce l'ho messo Allora ho sbloccato un altro vicino per capri finalmente vorrei dire Poi ho messo la seconda stalla Ah raga se vedete i cani che non mangiano Non trovo il mangino quindi eh Non ho le carote molto male Bene non ho nulla del mio Cani video Che è colpa mia No Beh in realtà sì però Facciamo un momento che non sei colpa mia E' giustamente mancato Ti prego Eh Giusto Ah allora ho migliorato anche sull'orto della sleeping E' giusto E' giusto Ah questo vuoi stai molto buono a un poio sblocato o tanto non ero buono non so se fosse per un crit Sì, 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 sì. E' tutto Guarda solo per le spingere Ah ragazzi Ah ve lo dobbiamo vedere Per giro di ruota che cosa c'è Non l'interessante Oppure quello di Tom Quello che mi interessa va di più Però naturalmente Non si può fare Non si può fare Guarda Ma con il caccio Ma con il caccio Ecco, per il paese proprio Voi arrivare da nuovo Allora Ah vabbè Ah vabbè Ah Ah Tutto la trattoria O al cino Ah 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 i miei cani non hanno da mandare i poveri cani non volevo quelli per le nuove ok un momento scuro to' albino Anche ecco le fragole ora se non posso raccogliere duro non vado a colpa non posso raccogliere non posso raccogliere non posso raccogliere visto che sono zil che non lo fa ma io ho preso chi prego mannaggia 3 biglietti d'oro buono cioè d'oro magari è giustamente salto appena arriva orville addio giusto ma per forza cioè quando ho voglia di qui non c'è sempre mi spattolo no se non ce l'ha lui non so c'è un po' da quattro c'è già sta bestia grazie come c'è vabbè giustamente questo non da mai da meglio però grazie giusto giusto potessi grazie grazie per tutti quelli che hanno causato bellissime 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 perché due miglia Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti